Allora, due coneggi, la moglie dice al marito siccome lei non può avere un orgasmo è una donna dura, insomma, non riesce ad avere un orgasmo però una notte ha detto sai caro, ho fatto un sogno mentre facevamo l'amore c'era un negro seduto sull'armadio col ventaglio che ci sventolava e ho preso un orgasmo incredibile allora decidono di realizzare il sogno sono andato al semaforo hanno incontrato un negro ci resono 100 euro di fare questa cortesia salire sull'armadio e sventolare chi sto con 100 euro ha accettato allora vanno in camera da letto il marito fa l'amore con la moglie e chi sto che ha sventolato il ventaglio nessun risultato allora la moglie dice senti facciamo una cosa invertiamo le parti un marito sull'armadio e il negro ha letto con me allora mentre il marito lo assopra che sventolava io ne oro e sua moglie oh oh io un orgasmo incredibile quando hanno finito un marito scende dall'armadio rivolto verso il negro e ci dice oh bestia lo vedi come si sventaglia? che scende? che scende? che scende?